Siamo qui a presentare al lancio nazionale il nostro nuovo monitor curvo, monitor curvo Samsung adatto al pubblico degli e-sports e dei pro gamer. 144 Hz, un millisecondo, il primo monitor curvo con un millisecondo. Oltre a queste funzioni accostiamo tutta la qualità che è quella dell'immagine perché il monitor è un monitor quantum dot con sRGB 125% e oltre a questo tutta l'interfaccia configurabile direttamente a schermo. In che senso configurabile? Configurabile a livello di colore, di scala dei neri, di frequenze appunto di refresh rate, configurabile in base del tipo di gioco che si vuole approcciare, che sia un FTS, un RTS o un gioco di un MOBA ad esempio, il monitor è completamente configurabile per le necessità di chi lo vuole utilizzare. La partnership con Microsoft come lancio? È un continuum di quello che abbiamo già iniziato a fare negli scorsi mesi con degli eventi presso nella nostra sede Samsung District con il lancio di Forza Horizon e Gears of War in anteprima. È una partnership che è nata grazie alla possibilità di Microsoft di avere questa duplice funzione che è il Play Everywhere, quindi garantendo sia utenza PC che utenza console un'ottima soluzione di gioco. Avendo noi una line-up completa possiamo garantire appunto grazie al nostro nuovo Pro Gaming Monitor un'esperienza su PC molto valida e avvolgente, mentre per chi ha necessità minore a livello di hardware abbiamo anche i nostri monitor curvi più adatti all'entertainment generico e in particolare a quello per console. Grazie. 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 Grazie.